7 gennaio 2019, Gianni Colacione per Libri TV, siamo nello studio della Presidente del Settimo Municipio Monica Lozzi, un po' di tempo che non facciamo questa che è un'intervista una finestra sugli lavori della Giunta del Settimo Municipio, i lavori ovviamente per il 2019 già sono ripresi, sono in piena attività, ci sono alcune cose che sono accadute in questo municipio dall'ultima volta che abbiamo ascoltato la Presidente e facciamo un piccolo aggiornamento su queste vicende, poi ovviamente Monica avrà delle cose di cui io non sono a conoscenza e che magari può far conoscere la cittadinanza che ci segue su Libri TV, per quanto riguarda questo spicchio di sottile ma molto popolato della capitale, insieme ovviamente a tutte le tematiche che riguardano il Consiglio che seguiamo ormai da 5 anni, ovviamente Monica sarà libera di farci sapere. Allora Monica grazie ovviamente per questo appuntamento, buon 2019 anche se un po' in ritardo, siete a lavoro, visto che insomma ci sta una certa attività che probabilmente non si è mai sospesa durante queste feste, io volevo cominciare a parlare di un qualcosa che lontano ovviamente dagli uffici del municipio, però comunque sia ho letto un po' sulla stampa, crea qualche polemica, almeno così sembra qualche malumore che sarebbe praticamente la questione della ciclabile su Via Tuscolana, dovrebbero essere 2,2 km più o meno, moltiplicato due, cioè andata e ritorno dalla stazione da Cinecittà fino a Porta Furba se non sbaglio, ed è già in parte realizzata, ma ci sono un po' di polemiche, almeno così ho letto che riguardano soprattutto negozianti questa pista ciclabile, adesso tu ci spiegherai bene, ma ho già visto che insomma praticamente non sta sul marciapiede, sta su quello che una parte era la sede stradale, ecco che cosa sta accadendo, come stanno andando i lavori? I lavori stanno andando bene, credo che tutte queste polemiche sono sicuramente state sollevate in maniera strumentale perché chi ha visto la realizzazione della parte che già è terminata si è reso conto che non è assolutamente invasiva, nessun parcheggio regolare viene perso, viene creata difficoltà alla doppia fila e ad oggi da gennaio incrementeremo anche i controlli da parte della Polizia Locale, è un'opera che è stata fortemente evoluta sia a livello comunale sia a livello municipale perché quando dobbiamo cominciare a parlare di mobilità alternativa, di mobilità sostenibile bisogna anche cominciare a fare le infrastrutture, noi come municipio abbiamo già pianificato e stiamo progettando circa 27 km di infrastrutture ciclabili, quelli sono i primi 4 km, due andare e due a tornare, ad esempio abbiamo già in conferenza dei servizi il tratto che va poi da Porta Furba a stazione Tuscolana, stiamo già lavorando per collegare l'extra gra alla metronannina, è già andata a bando la ciclabile che collegherà il lato Tor Vergata romanina fino alla Palmiro Togliatti, quindi tutte queste polemiche che erano un po' sterili, si sono alzati i toni anche in maniera impropria, addirittura è stata distrutta la bicicletta di un cittadino che aveva partecipato ad una commissione, insomma tutto questo polverone per la realizzazione di una ciclabile secondo me è un po' troppo strumentabile. Quindi tu in qualche modo confermi quello che dice l'assessore alla mobilità Meleo che dice che serve per regolare il traffico limitando la doppia fila e il presidente della commissione mobilità Enrico Stefano che dice che si elimina lo spazio in eccesso e quindi serve a ridurre il traffico e le vetrine si vedono meglio andando in bicicletta, questo per quanto riguarda i negozianti. Assolutamente serve per regolare e ordinare il traffico sulla Tuscolana, è uno strumento che permette a chi vuole utilizzare la bicicletta di poterlo fare in sicurezza e passeggiando come pedone sul marciapiede hai una sensazione di avere un po' più di spazio lontano dalle auto perché vengono anche leggermente spostati i parcheggi, quindi secondo me va semplicemente ad abbellire una delle più importanti vie commerciali di Roma. È prevista anche una, ovviamente bisogna intervenire anche per riorganizzare le fermate degli autobus? Quello già lo stanno facendo, praticamente si stanno creando proprio delle penisole dove fare le banchine di sosta dei bus, anche laddove ci sono i posti disabili il cordolo non viene realizzato in modo da agevolare l'ascesa anche della persona con disabilità, quindi queste sono tutte accortezze che già sono state poste in essere nel progetto. Questa ciclabile si ricollega poi praticamente a un'altra ciclabile che già esiste e che incrocia gli Otuscolani e va verso gli Acquedotti se non sbaglio. È quella di Viale Giulia Agricola che abbiamo proprio risistemato come municipio all'inizio della nostra consigliatura, era un cantiere di un PUP lasciato abbandonato una volta che il PUP non è stato più realizzato e noi nei primi sei mesi di consigliatura siamo riusciti a portare a termine la sistemazione anche di quella ciclabile. E questo progetto si integra in quello che è un progetto del Movimento 5 Stelle più ampio per quanto riguarda la città del grande raccordo anulare ciclabile. Assolutamente sì perché il Grab andrà a interessare la zona di Arco di Travertino e noi di fatti nella prosecuzione verso Stazione Tuscolana faremo il tratto di Tuscolana che passa anche da Arco di Travertino e il Comune nel progetto che si va a ricollegare al Grab si occuperà dell'altra parte di progettazione. Quindi insomma comunque sia bisogna, ci sono delle sinergie anche con il Comune che deve in qualche modo contribuire oltre penso anche sostanzialmente in modo economicamente insomma. Allora ci siamo divisi i compiti, abbiamo preso la piantina del settimo municipio, abbiamo deciso quello che sarebbe andato a progettare come reti ciclabili come municipio e quello che avrebbe fatto comunque il Comune di Roma con il Dipartimento Mobilità, ognuno prenderà poi a tingere i fondi dal proprio bilancio. Quindi la progettazione e la programmazione che stiamo facendo sui nostri ciclabili rientrano nel bilancio municipale e quelle che realizzerà il Comune di Roma rientrano nel bilancio del Dipartimento Mobilità. Comunque è tutto quanto preordinato questa sinergia, questa unione di intenti? Assolutamente sì, abbiamo fatto un paio di mesi fa un incontro preliminare in cui abbiamo deciso chi fa cosa e noi stiamo portando avanti il nostro. Perfetto, che la Monica Lozzi porti avanti il proprio, io non ho dubbi perché insomma la conosco da tempo, magari su altre persone un po' magari qualche sospetto, qualche dubbio ce l'ho, ma comunque quando è prevista la fine di questo cantine, questi lavori? Allora io credo che il termine di tutti i lavori ci vorranno ancora un paio di mesi sulla Tuscolana proprio perché devono lavorare in maniera importante proprio su ogni fermata bus e su ogni posto disabile, quindi io darei come tempistica almeno un altro paio di mesi di grande cantierizzazione. Ok, allora quindi vedremo un pochino come vanno le cose, poi magari ci sarà anche l'occasione di verificare il successo della cosa, la frequenza di ciclisti e così via, e in teoria anche una diminuzione del traffico su via Tuscolana, questo qui è previsto insomma… Beh, allora diciamo che non è che realizzando una ciclabile dalla sera alla mattina tutti cominciamo a prendere la bicicletta, però cominciare a creare delle infrastrutture anche in maniera più ampia nel territorio possono lasciare l'opportunità a chi vuole di utilizzare un mezzo alternativo, se poi si riuscisse anche ad incrementare un servizio di mezzi pubblici più efficiente di quello che c'è ad oggi il tutto potrebbe essere più funzionale alla riduzione del traffico privato sulle nostre strade. Adesso quanto riguarda i mezzi pubblici ci arriviamo, per chiudere questa cosa della ciclabile io sinceramente ho un quesito da rivolgerti che è quello della sicurezza, cioè la sicurezza dei ciclisti che percorrerebbero questa ciclabile, che percorreranno questa ciclabile in una strada dove ogni 40-50 metri ci sta un incrocio, una confluenza di una strada e quindi sostanzialmente poi ci sta una questione di precedenza, chi passa, chi non passa, il ciclista non è un motociclista, sappiamo che forse perché sono anche abituati alla caffarella andare con una certa libertà e anche con una certa velocità, non pensi che si possano creare delle situazioni di pericolo? Ci sono ciclisti che sono assolutamente abituati a girare sulle nostre strade, la differenza che ad oggi la possono fare in una corsia riservata, fino ad oggi lo hanno fatto insieme alle automobili, anche per i ciclisti pigi e il codice della strada, quindi ognuno di noi e tutti coloro che utilizzano questo strumento sanno laddove si devono fermare, laddove devono dare le precedenze, laddove devono guardare, quindi insomma in generale andiamo a mettere in sicurezza un percorso che ad oggi viene effettuato esclusivamente in mezzo al traffico urbano. Senti Monica, a novembre, ormai parliamo dello scorso anno, in via del Quadraro è successo qualcosa di importante, il 21 c'è stato un abbattimento di alcune case che erano dove abitavano i casa Monica, ormai è una cosa abbastanza nota, io una mattina sono passato lì perché peraltro ci stava il consiglio, era se non sbaglio un giovedì o un martedì, insomma era giorno del consiglio che seguiamo ormai da tanto tempo, il consiglio del settimo municipio e c'era sostanzialmente una sorta di militarizzazione complessiva per motivi di sicurezza, si è parlato di 600 agenti, tra vigili, quello che era, insomma ci sono stati questi abbattimenti, è stato una cosa, insomma un ripristino della legalità sostanzialmente, ecco io volevo chiederti, visto che sono passati poi i ministri e quant'altro, poi poco dopo c'è stata la restituzione di un'area non lontano da qui, sempre parola che riguardava di casa Monica alla Romanina se non sbaglio e lì si sono visti anche una sorta di vetrina ai ministri per il capito del governo e quant'altro, ruspe eccetera, ministri sulle ruspe, ecco io volevo chiedere, qui in un'occasione appunto di abbattimenti in via del quadraro, qual è stata la parte del municidio, quale quella del comune? Diciamo che l'abbattimento degli abusi edilizi nel comune di Roma spetta ai municipi, è competenza dei municipi, noi quando ci siamo insediati abbiamo ripristinato dei bandi che non erano mai stati fatti per dedicare delle somme alla lotta all'abusivismo edilizio, nel primo anno ci siamo occupati di rimuovere gli abusi all'interno delle strutture comunali insistenti nel municipio, il secondo anno abbiamo cominciato ad andare sull'edilizia privata, logicamente abbiamo preso come primo obiettivo via del quadraro proprio perché erano immobili non sanabili, anche perché gli atti amministrativi nella maggior parte di quegli immobili si erano già perfezionati nel 1997, in più andavano ad aggredire uno dei più importanti beni archeologici di Roma capitale e quindi abbiamo deciso di fare questo bando, di aprire questo tavolo anche con la prefettura per organizzare logicamente l'intervento e siamo riusciti ad arrivare a queste demolizioni, noi già anche nel 2019 interverremo sugli abusi edilizi, logicamente di tutti, non solo di quella famiglia perché è giusto, è un'attività che il comune deve fare anche per garantire il rispetto della legalità e delle leggi. Sì, la cosa incredibile è che dal 1997 ovviamente le cose erano abbastanza chiare e c'è voluto tutto questo tempo. C'erano atti esecutivi, c'erano delle DD in cui si diceva con priorità assoluta e sono passati 21 anni proprio perché c'era la priorità assoluta. Sono passati 21 anni, però adesso una piccola nota che io userei di costume, vorrei farti commentare, il Ministro degli Interni sulla Ruspa si è visto sicuramente alla restituzione che c'è stata vicino alla Romanina. Si è visto nell'intervento fatto da Zingaretti al Campo Romano, era una villa che era già libera da anni, che aveva preso in carico la Regione come bene confiscato e che ha deciso di demolire, l'intervento è stato fatto dall'esercito, dalla Regione, il Ministro è salito sulla Ruspa. Io sinceramente non sono molto d'accordo a queste manifestazioni così esagerate, anche perché sono degli interventi istituzionali e devono mantenere il contegno istituzionale che è dovuto. Sì, poi peraltro si tratta di cose avvenute per quanto riguarda la questione del Quadraro con un ritardo che è una cosa quasi incredibile. È comunque sì, è una demolizione, c'è un qualcosa che non si sarebbe neanche dovuto costruire lì, quindi non è che una casa poi si costruisce dall'oggi a domani, qualcuno in qualche modo non ha visto per usare un eufemismo. Quindi comunque ognuno poi fa la propria propaganda come vuole. Senti, queste aree del Quadraro, ho letto che una parte sono addirittura delle ferrovie e ancora ho visto passando che stanno portando via dei materiali, verranno ripristinati i luoghi, verranno restituiti, che cosa ci si farà di quei luoghi? Noi intanto andremo a rimuovere tutto, perché ad oggi sono state portate via le macerie relative alle abitazioni, bisogna rimuovere anche il pavimentato a terra, stiamo intervenendo anche con la sovrintendenza per andare a sistemare l'acquedotto che ha subito dei danni importanti, dopodiché quell'area ritorna alla fruizione pubblica, logicamente le ferrovie si occuperanno della messa in sicurezza del loro tratto e noi dovremmo preoccuparci come comune di mettere in sicurezza la parte di nostra competenza, è un'area non ben collegata al resto del parco, quindi creare lì parchi giochi, quindi creare lì un'area giochi o quant'altro non ha molto senso perché è un po' isolata, però sicuramente bisogna metterla in sicurezza affinché nessun altro poi si vada ad insediare in maniera impropria in quella zona. Peraltro lì appunto, come dicevamo, passa una ferrovia, questa adesso mi ha venuto in mente adesso, ci sono due ponti ferroviari, ma che condizioni stanno? Adesso ho detto una domanda che posso fare, però sai, con i ponti purtroppo siamo un po' sensibili. So che Ferrovie ha fatto tutti i controlli, li faceva anche precedentemente, logicamente il rischio che si correva è che in quell'area spesso veniva utilizzata il lato ferrovie magari per movimenti non proprio idonei e ad oggi avendo tolto questo pericolo, anche perché erano veramente adiacenti ai binari, Ferrovie ha anche attirato un sospiro di sollievo perché può mettere veramente in sicurezza tutta l'area. Bene, senti, qualche domanda anche per quanto riguarda i trasporti, lo diciamo per chi ci segue, è in corso la finestra di voto dell'Assemblea dei creditori ATAC che è incominciata il 19 dicembre scorso e si chiuderà l'8 e ovviamente è un tema che riguarda tutta Roma, riguarda anche il settimo municipio dove la situazione dei mezzi di superficie, adesso ce la direi tu, ci sono stati mezzi che hanno preso fuoco, poi non so se ci sono delle inchieste, dei dossier della sindaca in corso, ma insomma la cosa è abbastanza mezzi di 17 anni e la cosa che forse è influenza, che interessa il maggior numero di persone è la chiusura di parecchie stazioni della metropolitana a seguito poi ovviamente degli incidenti che ci sono stati a Piazza della Repubblica alla stazione della metropolitana per quanto riguarda le scale mobili. Ecco, com'è la situazione? Adesso credo che si sia normalizzata, subito dopo il problema che c'è stato a metro a Repubblica sì, sono stati interdetti di accessi in alcune stazioni per fare le manutenzioni e sicuramente poi sotto il periodo natalizio hanno creato un po' di disagio. È auspicabile per tutti che i mezzi pubblici cominciano a funzionare in maniera più efficace ed efficiente, noi abbiamo avuto sì, anche da noi ci sono stati degli incendi in zona Villa Lais di autobus che così per magia prendono fuoco improvvisamente, sicuramente la vetustata dei mezzi non aiuta, e poi mi auguro che i nuovi mezzi che sono stati acquistati da Roma Capitale possano più vivere. Ecco, parliamo di questi nuovi mezzi che però mi pare che non si vedano in giro. Io so che qualcuno è arrivato e sta più nelle zone centrali, quelli previsti nel 2019 cominciano ad andare a coprire anche le aree più periferiche, almeno questo è stato dichiarato dall'assessora Meleo e non ho dubbi che avvenga così. Siccome noi più di una volta ti facciamo delle domande che esulano dall'ambito del settimo municipio, perché Monica Lozzi riteniamo sia capace di darci delle opinioni sue anche al di là dei limiti ristretti in qualche modo di questo piccolo spicchio di città, tu resti sempre dell'opinione, più di una volta mi hai confermato, l'Atac è un patrimonio dei Romani, così com'è in qualche modo si potrebbe risanare con interventi ordinari? Secondo me l'Atac si può risanare con interventi ordinari, anche perché il problema del servizio pubblico, al di là del fatto che l'Atac per anni è stato utilizzato anche per assunzioni impropri e quant'altro, togliamo questi problemi che ci auguriamo che da oggi non ci siano più, però il problema del… Da oggi non ci siano più, scusate ti interrompo, nel senso nuove assunzioni, ma chi è assunto finché non va in pensione resta? So che in alcuni casi quando hanno dimostrato è difficile, quando tu prendi un posto pubblico poi diventa estremamente complesso andare a fare queste cose, però tolto quel problema che ci auguriamo che non esista più, perché in questi ultimi anni, non solo in questi due anni e mezzo, ma negli ultimi anni si sta cercando di lavorare anche sulla regolarità delle assunzioni, tutta questa serie di cose, a Roma se non crei anche delle infrastrutture in città, corsie preferenziali, se non agevoli l'attività del mezzo pubblico si incastra nel traffico insieme alle macchine, quindi anche se lo dai in gestione a un privato che non è partecipato neanche all'1% da Roma Capitale, non hai la garanzia che il servizio funzioni, quindi tutelare Atac e cercare di trovare tutti quegli strumenti che permettano il suo buon funzionamento credo che sia il minimo che si possa fare. Ma oltre le assunzioni, queste sempre siamo nelle opinioni un po' tra noi diciamo, oltre le assunzioni che ovviamente io penso, presumo quelle diciamo che in qualche modo era un'espressione di una clientela politica, insomma di quello parlavamo, insomma ci sono anche parecchi dirigenti che prendono molti, molti, molti soldi. Assolutamente sì, difatti rivedere il ruolo dirigenziale secondo gli obiettivi secondo me è fondamentale, non ti do uno stipendio intero di centinaia di mila Euro annuali, io auspicherei auspicherei uno stipendio minimo e poi sugli obiettivi raggiunti puoi anche arrivare a prendere cifre importanti, però mi devi portare a casa gli obiettivi, sarebbe utile. Quindi è una riforma della governance? Assolutamente, quello penso che va bene per tutte le partecipate, anche per Ama io auspicherei. No, no sì, senz'altro, no quello che io torno al discorso di prima, c'è un intervento ordinario, c'è il recupero dell'abusivismo, c'è l'abusivismo di insomma di coloro che non pagano il biglietto, mi sembra che poi alla fine sono queste le proposte che si sono sentite, mi sembra un po' poco e tu giustamente accenni a una riforma della governance che non si fa con strumenti ordinari. Quando uno utilizza lo strumento della partecipata, questa è un'opinione mia, personale, se non trovi un sistema per governare lo strumento della partecipata in maniera onesta e anche abbastanza dura, anche con sanzioni e quant'altro, il rischio è che viene identificata sempre con il Comune e quindi la priorità non è più offrire un servizio ai cittadini degno, ma andare a tutelare tutta la struttura della partecipata, il Comune di Roma… Per dar lavoro alle persone che ci lavorano, è un po' come come sono sempre stati fino adesso i servizi per gli impiedi. Però secondo me il Comune la prima cosa che deve fare è garantire un servizio efficiente, logicamente una volta che hai creato una struttura di una partecipata con tutti i dipendenti vai a tutelare anche il lavoro, ma la priorità c'era sempre il servizio che devi offrire ai cittadini. Sì, sì, adesso mi ricordo che peraltro proprio in questo municipio insistevo una volta l'ex collocamento Sì, che stava ancora dietro. Sì, una volta stava su Via Appia vicino a Cine, vicino dove sta il centro commerciale Appia, insomma da quelle parti ed era una cosa che serviva per dar lavoro alle persone. E siamo comunque sia in temi di attualità perché insomma a livello nazionale ci sono delle proposte, vedremo come va. Parliamo di Ama, anche lì ci sono stati di recente proprio con la riapertura delle scuole, alcuni campanelli d'allarme, l'associazione dei presidi diciamo in qualche modo ha detto che era una situazione in molti luoghi abbastanza insostenibile e da un punto di vista igienico problematica, tant'è vero appunto che si minacciava la non riapertura delle scuole. Ora, in questo territorio la situazione appunto dei rifiuti, lo acceniamo, resa più grave a quanto pare dall'incendio che c'è stato al TMB del Salario che ha reso già una situazione che era già problematica, quasi drammatica. Ecco, qui com'è la situazione? Noi abbiamo avuto le criticità come su tutta Roma, ne abbiamo ancora, io purtroppo ho la zona del Tuscolano, Don Bosco, Cine, Città Est che sono estremamente critiche, noi non abbiamo avuto grandissime criticità all'interno delle scuole per lo smaltimento dei rifiuti scolastici, diciamo, ma all'esterno sì perché alcuni marciapiedi erano impraticabili e quindi abbiamo lavorato con AMA affinché fosse ripristinata l'igiene e la pulizia almeno nei pressi degli istituti scolastici, le difficoltà sono ancora evidenti, noi come municipio abbiamo chiesto l'applicazione del contratto di servizi al Dipartimento Ambiente, la verifica del livello qualitativo del servizio offerto da AMA perché dobbiamo dare delle risposte, sono passati due anni e mezzo, Roma sta lavorando a livello comunale ma purtroppo le indicazioni politiche che vengono date poi all'azienda AMA non si traducono in servizi efficienti e quindi noi in settimana avremo anche un incontro dedicato al municipio proprio per capire il perché alcune zone non riescono ad essere servite in maniera sufficiente dalla raccolta dei rifiuti, così come invece in altre parti del municipio invece il servizio è sicuramente molto più... Senti, riguardo a questo come commenti, che pensi che l'effetto possa avere l'appello al volontariato sostanzialmente, ho letto da parte della giunta capitolina raccogliere, pulire i marciapiedi da parte dei cittadini, organizzarsi, qua a me sembra che la situazione è così gigantesca anche perché poi si parla di differenziata che più il cittadino più che portare le cose nei castanetti dove ci sono i castanetti o fare differenziata, insomma che cosa può fare? Non lo so, tu che ne pensi? Allora, diciamo che secondo me sono argomenti che viaggiano in maniera parallela, il fatto che un commerciante si possa pulire il marciapiede davanti, è sempre stato fatto precedentemente, ancora nei regolamenti è senso civico farlo, io ho sempre pulito il marciapiede davanti di casa mia anche perché è una strada che non è frequentata tantissimo da Ama, non lo è adesso, non l'è mai stato, però non è quello che risolve il problema, diciamo che un passo avanti da un punto di vista di aumento del senso civico del cittadino romano sicuramente è auspicabile, ma non risolve il problema, per risolvere il problema bisogna intervenire su Ama, sulla governance di Ama, bisogna trovare i luoghi dove poter fare isole ecologiche, nel mio municipio ne ho una per 310 mila abitanti, è assolutamente insufficiente, quindi bisogna trovare i luoghi idoni ed andarli a realizzare, almeno le isole ecologiche e nelle more della realizzazione magari trovare, come ha sempre fatto Ama, le domeniche dove poter andare a conferire che diventino però appuntamenti fissi finché non si realizzano le nuove isole ecologiche, bisogna trovare dei punti di trasferenza perché l'immondizia non può rimanere in strada, anche se c'è un problema con i DMB, con gli impianti non puoi lasciare l'immondizia in strada perché l'immondizia in strada non solo è contro il decoro, ma porta poi il problema dei ratti che porta poi a dover derattizzare, in città è difficile perché all'aperto è complicato, quindi bisogna intervenire e farlo il prima possibile secondo me e forse chiederci anche se a livello dirigenziale ad oggi Ama ha dato le risposte che doveva dare. Il fatto della scelta dei luoghi è fondamentale perché poi ci sono dei luoghi che dovrebbero essere scelti per e destinati a qualcosa, ecco per esempio il TMB era diventato una mezza discarica e con i problemi venivano anche da quello, oltre gli odori vari e così via, poi lì adesso ci sono delle indagini in corso, c'è stato un incendio e si è reso tutto inutilizzabile, però per esempio non è bello neanche vedere in piazza San Giovanni la notte che arriva il camion piccolo che poi dopo riversa le cose nel camion grande, insomma anche perché poi si sporca a terra e poi una cosa volevo chiederti un pochino perché è vero premesso che i romani sono sporchi, non amano la loro città, questo è abbastanza palese, però ci si dovrebbe anche chiedere come è possibile trovare la mondezza per terra intorno ai cassonetti e il cassonetto vuoto, ora non è che uno è così scemo che vede il cassonetto vuoto e butta la roba per terra, si potrebbe spiegare e qua io faccio appello a te, insomma che è così perché era pieno il cassonetto, passano a svuotare il cassonetto ma non raccolgono la mondezza per terra perché altrimenti siamo alla demenzialità. No, assolutamente concordo, purtroppo una volta esisteva, come diciamo vogliamo tornare al fatto che ognuno si pulisca il proprio marciapiede, io tornerei anche alla vecchia pratica in cui il furgone grande che va a scaricare il cassonetto è accompagnato magari dal furgoncino che nel contempo pulisce a terra perché il problema che sorge è che se poi loro riposizionano il cassonetto svuotato sull'immondizia a terra rischia che si rovescia ma non solo, una volta che l'è riposizionato vuoto diventa complicato scavalcare l'immondizia per andare a conferire all'interno del cassonetto, quindi magari organizzare il servizio in questo modo, dove si passa col macchinario che svuota ma anche con le persone che vanno a ripulire intorno al cassonetto è una pratica credo che sia abbastanza funzionale. L'abbiamo fatta abbastanza lunga, io ho soltanto due altre domande molto rapide, una se ti andava di farci capire che cosa era successo, anche questo è un fatto di cronaca, sono stati trovati in un cassonetto una busta di carta identità, probabilmente ritirata, nel cambio al passaggio alla carta identità elettronica riguardante appunto questo municipio, qui nei pressi e in città in un cassonetto sono state ritrovate queste carte di identità ancora con nomi leggibili e poi volevo chiederti le sorti in qualche modo del manufatto ad arco di Travertino, c'è stata una mozione del Movimento 5 Stelle che appunto chiedeva di impegnare la Giunta per la trasformazione in uno spazio polifunzionale, il comando della Polizia Municipale, anche un presidio sanitario, ecco a che punto stanno queste cose? Allora facciamo prima a Petra Vertino che è più semplice, il progetto per realizzare lì gli uffici del gruppo di Polizia Locale e dei laboratori dell'ASL, lo sta facendo l'Università della Sapienza, quindi appena avremo un progetto un po' più avanzato anche con un computo economico dei costi potremo andare a chiedere il finanziamento poi al Comune di Roma, quindi ci stiamo lavorando, è un percorso complesso perché è una struttura che era lì abbandonata da tempo, abbiamo dovuto prima lavorare sulla progettazione e poi dovremo lavorare sul finanziamento, però cerchiamo di portare il tutto avanti. Per quanto riguarda le carte di identità, quelle erano quelle cartacee ritirate che in teoria dovrebbero essere distrutte tramite un trita documenti che si era rotto e quindi erano state tagliuzzate a mano con poca attenzione perché logicamente si vedevano ancora sia le fotografie sia alcuni dati sensibili, io appena l'ho saputo ho fatto ritirare dal cassonetto le carte di identità e custodire presso la Polizia Locale, ho chiesto l'avvio degli indagini, sono già partiti anche per corsi. Quindi praticamente a te ti hanno telefonato, ti hanno detto che sia questa cosa? A me i cittadini hanno mandato dei messaggi tramite social, io l'ho letto, mi sono attivato, ho chiamato immediatamente il comandante che ha fatto, fortunatamente le abbiamo trovate ancora lì, quindi non erano state ancora ritirate, le abbiamo tolte dalla pubblica via e avviate le indagini, avviate le indagini sia da un punto di vista penale per vedere se c'erano magari dei riscontri da un punto di vista di violazione del codice penale, sia da un punto di vista amministrativo e di fatti è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente responsabile. Perfetto, io penso di aver detto tutto, se tu hai qualcosa da aggiungere di quanto riguarda il tuo lavoro qui. Guarda noi qua lo sai di lavori noi stiamo facendo tante, tra strade, piazze, stiamo intervenendo nelle scuole, insomma noi quello che è di competenza nostra lo stiamo facendo e lo stiamo facendo anche abbastanza bene. Il decentramento amministrativo, quello è quello che vorrei fare. Questa è una battaglia che un po' tutte le giunte, in qualsiasi colore vengono, che sento. Questa però è una battaglia che dobbiamo cercare di concretizzare in maniera un po' più rapida, anche per rendere più funzionale Roma, perché non è solo una questione di agibilità maggiore dell'unicipio. Definendo le competenze, definendo in maniera netta chi fa cosa, sgravi anche il centro da alcune competenze che per loro secondo me sono assolutamente banali. Può essere che un dipartimento potrebbe preoccupare di una buca. Un decentramento alla Parigi, diciamo, tu con gli partimenti. A livello europeo io adesso non so nello specifico come funziona Parigi, noi abbiamo analizzato un po' Londra che potrebbe essere abbastanza, si potrebbe adattare a Roma, ci sta anche Berlino che ha un buon decentramento, però diciamo che già con le normative in essere, senza fare grandissime riforme neanche a livello centrale, diciamo che già potremo andare a ridefinire, a ridisegnare Roma così com'è, utilizzando le strutture che ci sono, dividendo bene le competenze, Roma a livello centrale da capitale europea si deve occupare di una programmazione di progetti grandi, importanti, noi ci dobbiamo occupare delle manutenzioni e di dare risposte ai cittadini. In più c'è anche il discorso di aprire un tavolo governativo per ridisegnare proprio da un punto di vista giuridico e amministrativo la capitale, che deve necessariamente avere dei poteri diversi da comuni piccolissimi. E questo è il tema dello statuto speciale che in qualche modo sembra che sia stato richiesto al governo? È quello che hanno tutte le capitali europee, una capitale europea per funzionare e dialoga direttamente col governo, perché ha priorità diverse rispetto a un comune normale, quindi è normale che per poter funzionare una capitale debba dialogare senza doversi interfacciare prima con la regione, seguendo tutta una serie di meccanismi che sono tipici anche del piccolo comune da 15.000 abitanti. Perfetto, allora ringraziamo Monica Lozzi, le curiamo buon lavoro e a risentirci. Grazie a tutti, buon anno.